Serie A, Cagliari-Empoli 0-2, Verona-Torino 2-3, Granata al primo posto in Resoconti di Serie A, Cagliari e Verona sotto i riflettori Resoconti di Serie A, Cagliari e Verona sotto i riflettori Nell'ultima giornata di Serie A ci sono state partite interessanti che hanno avuto un impatto sia sulla lotta per la salvezza che sulla corsa per il titolo. In particolare, la partita tra Cagliari ed Empoli e l'incontro tra Hellas-Verona e Torino FC hanno attirato l'attenzione. Cagliari ha dovuto arrendersi in casa contro l'Empoli con un punteggio di 0-2. Il Gostedi Empoli si è mostrato dominante fin dall'inizio e ha preso presto il comando della partita. Un giocatore della squadra di Empoli ha riferito che la squadra voleva assumere il controllo del gioco sin dall'inizio e ha effettivamente mostrato una prestazione molto buona. I giocatori del Cagliari non sono riusciti a resistere abbastanza bene alla pressione, il che ha portato a un'atmosfera tesa allo stadio. Durante la partita, il Cagliari ha avuto alcune occasioni, ma la palla semplicemente non voleva entrare in rete. Un giocatore della squadra di Cagliari si è detto frustrato dopo la partita per la mancanza di efficienza davanti alla porta e ha sottolineato che bisogna imparare dagli errori per migliorare le prestazioni nelle partite future. Dall'altra parte, Hellas-Verona e il Torino FC hanno disputato una partita molto emozionante che si è conclusa con il punteggio di 3-2 per i Granata. Il Torino FC, che dopo questa vittoria è salito in cima alla classifica, ha mostrato una prestazione forte. Un giocatore del Torino FC ha sottolineato che fin dall'inizio erano stati motivati e volevano assolutamente i tre punti. Hellas-Verona, nonostante fosse in svantaggio, non si è dato per vinto e ha lottato fino alla fine. Un giocatore di Verona ha espresso il suo orgoglio per la prestazione della squadra, anche se il risultato non è stato positivo. I tifosi hanno assistito a una partita emozionante con molto spirito offensivo, coronata da alcuni gol spettacolari. La situazione attuale della classifica mostra chiaramente che il Torino FC, con questa vittoria, è in cima alla Serie A e i tifosi sono soddisfatti delle loro prestazioni. Cagliari, invece, si è trovato in una situazione precaria nella lotta per la salvezza a causa di questa sconfitta. Le prossime partite saranno decisive e entrambe le squadre devono urgentemente raccogliere punti. Cagliari per evitare la retrocessione e Torino per difendere il titolo. In generale, la giornata di campionato in Serie A si è rivelata come spesso avviene, emozionante e sorprendente. Mentre il contrasto tra i due club di Verona e Torino è diventato chiaro, La lotta per la salvezza per il Cagliari è tutto tranne che semplice. Autore Anita Fache, sabato 21 settembre 2024